Musica Oggi è la giornata mondiale del libro, io leggo perché? Beh perché allontanarsi un po' dalla realtà fa sempre bene, quindi è un mondo a parte ecco il libro Perché mi piace, mi interesso a tutto diciamo e grazie ai libri posso ampliare tutto quanto quello che so Mi rilassa sinceramente Come posso dire, mi fa ampliare la mente Perché mi rilassa, il mondo va molto veloce, quindi è bello concentrarsi su un libro e leggere e poi è bello immaginarselo Cultura, si può riassumere in una parola sola, è cultura Infatti tante volte ci sono degli antichi detti che dicevano meglio libri che medicine Sembra un'assurdità, comunque il libro è cultura E poi bisogna variegare nei libri, bisogna leggere di tutto Perché quello più si legge più si sanno le cose Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti